5 dicembre 1839 nasce George Armstrong Custer, militare statunitense, l'uomo più odiato dai pelle rosse dopo il massacro dei Cheyenne di Caldaia Nera. Ambizioso e crudele, cerca di conquistare a spese dei nativi la gloria che non ha ottenuto nella guerra di secessione. Nel 1876, a Little Big Horn, il generale Terry, comandante della cavalleria statunitense, formula un piano per sorprendere i guerrieri di toro seduto. Custer, al comando del settimo cavalleggeri, contravviene agli ordini e decide di attaccare. Accerchiato da alcune migliaia di pelle rossa, viene ucciso insieme ai suoi 263 uomini.